Buon pomeriggio, ciao a tutti, come state? Bentornati, vediamo adesso se ci siete soprattutto, come va, come procede? Ci siamo quasi forse, ecco Instagram che arriva qualcuno, mi avvicino, allora, Gulli, buongiorno, buon pomeriggio E qui su Facebook, non è arrivato nessuno, eh, sì, quattro persone, cinque persone stanno arrivando, piano piano, mi raccomando, non abbiamo fretta Ciao Giuli, ciao tesoro, ciao a tutti, è un'altra Giulia entrata anche su Instagram Bene, come sta andando la settimana? Mi state continuando ad allenare? Sì? Si sente la musica, ciao Andra, ciao Raffa Che è arrivato qui, ben arrivati a tutti Siete carichi? Oggi potenziamento muscolare, eh, mi raccomando, oggi si balla poco Ciao Flavio, ciao Adriano, ben arrivato Ehm, quindi andiamo a potenziare un po' di più, quindi è una versione un pochino più lenta, dove si lavora un po' di più, ci soffermeremo un po' più sul potenziamento muscolare Allora, che ore sono? Manca qualche minuto? Scrivetemi se c'è qualche problema, se mi vedete, scrivete, se vi vedete bene, se sentite la musica in sottofondo Ciao Lena, ben arrivata! Oh, poi rifacciamo un altro dei nostri video simpatici Eh? Bene, bene Benissimo Allora, siamo quasi pronti, eh, avete preso tutto quello che vi ho detto Oggi ve l'ho detto un po' in ritardo Ma stiamo preparando tante cose, quindi Sono stata un po' impegnata oggi, sì E quindi vi serviva una sedia E i vostri pesetti o la bottiglia Dei bottiglie d'acqua Andra, che dici? Cari che parola grossa E certo, ve le fate tutte le lezioni, ormai siete super allenati Altro che siete cari, siete allenati, siete tutto Siete pronti soprattutto alla lezione di oggi? Eh? Daga, è l'ultima della giornata Almeno con noi E solo con noi vi date allenare Vero? Adriano, tutto pronto? Tutto ok? La musica si sente? Perfettissimo Che vi volevo dire? Qualcosa? Serena, ben arrivata Dove sei? In terrazza? Eh? Papà ci sta? Eh? È arrivato anche lui? Bene, bene, sono contenta Allora, la sedia, mi raccomando, deve essere una sedia bella solida Mi raccomando che io qui non vi posso vedere ma Devo solo immaginare quello che combinate Va bene? Allora, questa naturalmente non sarà la musica del nostro allenamento Ma è solo una musica per condividere qualche cosina prima di iniziare Allora, qui stiamo entrando Giovanna, dimmi che fai anche la lezione che non mi guardi dal divano Dimmelo Fammelo sapere Io spero sempre che Giovanna faccia una mia lezione Che da tanti anni che la conosco Non lo so, guarda, se hai fatto una lezione con me Dice, c'è una run perché? Me lo domando, me lo devo domandare? Eh? Ok Mi raccomando, anche Luigi, eh? Voglio che si allena Perché qui quando torniamo in palestra Dobbiamo essere tutti super carichi Super tonificati Eh? Ok? Qui anche da, siete arrivati bene, bene, bene Allora Che ore sono? Ci siamo Diciamo che la diretta può iniziare Con il suo lavoro Vabbè Non sono molto carica, ve lo devo dire oggi Oggi sono un po' fiacchina, anche io Però spero di non Di riprendervi presto Ok? Ci siamo? Allora, Giovanna Vedi i fitbox Oh! Penso che va come lo ricordavo Però va bene, ci credo Ci credo Va bene Allora, cambiamo musica intanto Mi allontano solo un secondo E cambiamo la musica Ok Ripate Ditemi se il volume va bene A quella parte Intanto continuate A condividere i nostri video Ok, faremo prima un pochino di riscaldamento Va bene? Domani faccio la mia Va benissimo Ok, ok, ok Ci siamo Ok, iniziamo Ok, iniziamo Scaldate Per iniziare a scaldare tutti i nostri muscoli Ok, troppo solo Scusate Trovi sempre le braccia Mi raccomando Dobbiamo scaldare Molto 400 5 Per iniziare 5 4 E 5 Non dispendere completamente il braccio. Insieme. Insieme. Allunga. Vai, vai. Quattro. Tre. Due. Gomi. Si appiccinano alla testa delle spalle. Signora quattro. Ancora spinta in alto. E gomi di quattro e quattro. Signora in alto. Gomi di quattro. Gomi di quattro. Ancora. Gomi di quattro. Gomi di quattro. Gomi di quattro. Quattro. Ok, si appa. No, ben arrivati al messo in tavole con la destra. Goli. E andiamo in let's bar. Goli. Goli. Perci. 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 In occhio. Quattro A fuori dal loghi E quattro sinocchia, vai Quattro dal loghi Quattro sinocchia Asciutione, sbagli Quattro Quattro Quattro, capito e risco Mielo e risco Stiamo scattando A pronto A pronto That's it Sei Cinque Un numero quattro Tre Due Jump in there Vai Andiamo un po' Un numero quattro Quattro Confitta Confitta sul top Chi non può correre Cammina Ok L'importante è che non ci fermiamo Esco naturalmente Destro, sinistro Un numero quattro 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 Scacciata dietro Un numero quattro Cammina Un numero quattro Quello quattro Ancora lento, su, su, lento, lento, gamba dietro dietro in angolo e mi app, sempre la stessa, vai, 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 su, su, gamba dietro, via, su, 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 resta qua, resta, lo rifacciamo, gamba destra dietro, si manca un po' dietro, fai mi app, di seguito, 3, 2, 1, su, vai, spiora il battimento, col ginocchio, su, 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 cambio gamba, dietro, ancora, vai, ok, resta qua, divarca, sumo squat, una mano tocca a terra, una mano mai alto, spieghi un piede in diagonale, 6, 3, 2, 1, ruota, vai, non adesso la scelta, smetti in alto, ancora, 8, 7, 6, guarda la mano sinistra, ancora, 2, 1, ruota, Wagément, 8, 7, 6, 2, 1, ruota, panica, 1, ruota,gebeniamo, spiamme le braccia, vai, braccia in diagonale, la spalla qui con la mano, ancora 8, wbetta mano, 7, 6, 5, 2, 4, solo 3, 2, ultima, tutte le due le mani su, vai, a fu, vai, spingi dietro i glutei, vai, scendi bene, spingi, le mani verso l'alto, le spalle verso il basso, ancora 8, 7, 6, una fu, vai, giù, resta giù, spingi le mani in alto, viene dal nome, spingi i glutei, sali lento, 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 giù il braccio, lega, bravi, senti, senti il quadricipite, bello eh, porta, tira bene, rimane i gambe, rivali i gambe, tutte le cadere fuori, a fondo, piccolo piccolo eh, iniziamo piano piano, vai, vai, ok, vai, ancora, rimane a sinistra, rimane a sinistra, da questa posizione, da questa posizione, distendo le gambe, 1, scendi, 2, ma non portare avanti le ginocchia, scendi con i glutei, vai, vai, distendi, distendi, ancora 8, 7, 6, 5, 2, solo 4, solo 3, sui mani con le mani attaccate, sui mani giù, guarda le mani attaccate, guarda le mani attaccate, guarda le schiena schiacciata eh, solo 8, vai, 8, 7, 6, 5, 4, le mani attaccate, guarda le ginocchia, controlla sempre eh, e rimane qua, slingi, lentamente i piedi, sciogli, sciogli, oh, abbiamo bisogno adesso, della nostra sedia, eccola qua, una volta so, è scinta con i pesetti, ma ci siete? tutto bene ragazzi? ciao Silvia, ben arrivata, momento giusto, ciao a tutti ragazzi, bene, continuiamo ci mettiamo lateralmente la nostra mano a destra scendo qua salvo lateralmente faccio il piede bene spingo e scendo, scendo salvo su scendo, scendo salvo su, scendo vai, uno su, scendo vai, due su, scendo vai tre su scendo vai lateralmente eh ancora salvo, salvo scendi giù scelta pinci scendi giù forza pinci scendi giù forza ok marcia calcio lato laterale eh laterale eh lezzo tre due uno vado giù bam forza 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 spingo guarda avanti non mi guardo i piedi eh forza giù ancora forza giù vai forza giù vai forza giù vai ok ok adesso andiamo 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 al quarto vai per la matrimonata visibili e a fondo vai giù vai 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 mi raccomando la schiena eh inglesi e inglesi in avanti inglesi e inglesi giù piega e torna e torna marcia spazio andiamo vai 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 e mi pare con il nostro 5 ancora 4 3 2 1 bravissimi ci siamo? e sediamoci ok come se una mano che abbiamo una bottiglia, basta una bottiglia l'olio di amma qui faccio bene il braccio all'interno della coscia l'altra mano in appoggio mantendo forte la dove qua ruolo il polso dritto e ruolo vai 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 tira ancora 8 7 6 5 4 3 2 3 3 2 1 e 3 2 1 e 3 2 1 e e cambia il braccio 4 si vedo chi lo fa con la bottiglia di tremolo passa una bottiglia i piedi ai piedi puoi scegliere qua giù un ruolo dall'interno della coscia l'altra mano sopra un altro uomo costratto polso dritto e fai lo ruolo 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 6 6 4 3 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 18 16 17 17 18 18 poi spingi le gambe, spingi sui talloni, su, e l'ultimo, resta su piedi, questo è, ok, questo è su dei pesi, poi c'è a destra spalle, chiudo, 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 chiudo il braccio, vai, 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 sette, come prima sali, striccio, so, 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 vai, 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 io adesso, io ho, chiudi i conti, insieme, chiudi, 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 chiudi ancora quattro, quattro, tre, vieni bene, spalle basse, quattro, e il braccio sinistro, vai, rimane sempre senza spalla, vai, 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 ok, rimane qua, scendi la richiesta, mantieni bene i bocati, allora, rimane qua le spalle, non devi spingare le mani, vuole spalle, vieni ancora, vai, spalle basse, tre, due, vai, 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 stiamo in petto fermo, stiamo in petto, apri, 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 ancora, ottengo, sette, sei, cinque, cinque, solo qua, tre, due, corre, buccia, novanta bravo, vuota le mani, gira, 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 lascia la spena, vai, 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 anche ancora, 8 7 6 5 2 3 2 E 1 Lascia i pesi Ci siamo? 8 Ok Sbagli i vicini Arraso Arraso Vino Ritandiamo la nostra sedia Per i vicini Ok Sbagliiamo le mani in direzione dei nostri glutei Spostiamo i glutei E scivoliamo Giù bene Fingi bene Qualcuno della mano bene giocca Il musco scende dal particolare partito Ingoci C'è grande partito Bene giusto Giù Scendi Spingi Scendi Spingi 4 3 2 E 1 Sciogli un po' E questa è la riscata testa La facciamo con una gamba Accavalata sull'altra Ok Quindi c'è l'anglia Ok Ma quando andiamo a risalire Andiamo a distendere in alto La gamba accavalata Ok Vieno Distendere Va Vai Spingi un po' in braccia Vai So Vai So Vai So Se è una nuova da giù Basta che vengono stati bene avanti Te recuperiamo Com'è andata? Com'è andata? State a scrivere? Non state lavorando? Eh? L'altra gamba Io mi giro Voi no Ok Andiamo avanti l'altra Ci mettiamo bene in posizione Tantiamo i nostri glutei Vediamoci l'altra mano 3 2 1 Giù Va Distendo Va Distendo Distendo Oppure Porta avanti Oppure porta avanti L'importante è che si ritrovo le braccia E Tutto il senso sul tallone del piede a terra Vai Gli ultimi Vai Vai L'ultimo E Oh Questa non si deve muovere Sì Essere bella Tonica Guardate se mi piano Mi state facendo le regale stante Adesso Non prendere no Andiamo io se mi piano Ci siamo? Ok 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 L'ultima cosa I nostri piedi Qua E la nostra piaccia Sotto le spalle Ok Bene sotto le spalle Ok Ok Da qui Mi vedete tutti No Instagram Non mi vedete Una gamba scende e tocca E poi l'altra Pieni forte l'addome Vai Vai Pieni forte l'addome in gluteo Ancora otto Sette Sei Cinque Sono quattro Sono tre Due E uno Scendi Bravi 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 Lo fa Non è che è fatto Siete Sto Sto Morendo Ok Cambiamo Mettiamo la schiena a terra E le gambe sulla sedia Sarà quasi L'abbiamo Quindi Stiamo a terra Bravi Bravi e poi torna a pesca per cadere non mi grudere ma che la mano è salvo in là sempre che te stare a scherzo vai 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 Mantieni la gamba Resto in alto Sali 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 Vai Vai Sali 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 Distenti il braccio E poi al centro Vuoto E centro Vuoto E centro Vuoto E centro Ancora quattro Sei Due Uno Trance classico Torna Non ti fermare Brucia E sta lavorando Vai Due Vai 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 Quattro Bramma Su Sali E scelta Su 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 Ancora Quattro Trovo Tre Due 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 Iniziamo con il braccio Opposto Vuoto Torno Dritta Vuoto Dritta Vuoto Dritta Vuoto 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 E ancora Quattro 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 Tre Due 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 Uno E due Unisci la pianta dei piedi Allontana la gloria Unisci la pianta Porta le mani dietro la testa Una Per sapere Guardi di step Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Otto 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 Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Forti I piedi a terra E vai in ponte Vuoi le mani dietro la nuova Sali 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 Avvicinati bene Con i palmoni Unisci Vai Sali Sali Ancora Su 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 Vai Sali 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 Braccianai Sali apri, chiudi, 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 apri, chiudi. Questo lo possiamo fare anche con i pesi in una versione più strong, se volete. Oggi ve lo propongo così, ma poi voi quando riguardate le lezioni potete aggiungere le piccole cose, non fate di testa nostra, resta su, spingi bene, spingi forti i glutei, spingi bene così in alto. 3, 2, 1 e formati. Allora, come va? Voglio farvi fare solo l'ultimo circuitino, quello fallito dei glutei. Facciamo aggiungere una cosina. Ok? Bene, posizione di riemenzo. Quindi le ginossi alleggermente indietro. Solleviamole. E da questa posizione solleviamo le gamba. 3, 2, 1 e formati. Vai, vai. Vieni forte da me. Se non falgo giù, eh. Se non ce la fai, faci i ginocchi e continui. Ok? Una sale. Vienilo. 4. Abbiamo la tua gamba. Ok? Se non ce la faccio, gogo. Poggio il ginocchio e continuo. Ma inizio su, eh. Almeno che è un problema, mi prendo la schiena e allora no. Ok? Puglia i piedi. Puglia i piedi. Solleviamo le ginocchia. Solleviamo la gamba. Pieda il martello e vai. Lascia cadere giù il ginocchio. Prendi al dame forte. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e... Allunga. Bravi. Senti qua. Che caldo. Ci siamo? Aspetta che blocchiamo qua. Mettiamo un pochino di musica più relax. E poi vengo a capire come state. Come va. Chi è questa faccetta che appare di lato? Ciao. Bellissimo. Ciao ragazzi. Com'è andata? Fatemi sapere un attimo. Non vedo più scrittine. Si è bloccato tutto. Ci sono ancora? Fatemi sapere. Non vedo più che vi muovete. Vedo tutto bloccato. E... Vabbè. Facciamo... Facciamo... Ah ecco. Qui su Instagram qualcosa si muove. Vediamo qua se è successo qualcosa. Allora ci siete? Ah ecco qualche corricino. Andrà un po' a pezzi. E annuncia ci sei? Bene. 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 Ci siamo tutti. C'è un po' di fiatone anch'io oggi. Ma ve l'avevo detto. Sono un po' stanca oggi. Sarà il tempo. Bene. Sudata. Ah Federica dice perché siete morti. Che non rispondete. Dai dai. Allora. Approfittiamo mentre ci salutiamo. Di fare qualche... Qualche cosa per lo stretching. Allunghiamo un pochino le spalle. Dai. Allora vi ricordo che venerdì non c'è lezione. che non dovete uscire di casa perché è festa ma non dovete uscire di casa. Fate finta. Avete comprato un tappeto verde tipo da prato. Poi potete fare... Giulia grazie. Poi potete fare finta che fate un picnic fuori. Apro e cambio. Non dovete uscire. Se no qua torniamo indietro ragazzi. Bisogna aspettare. Piano piano. Perché se no non usciamo più. E fa caldo. Sì fa caldissimo. Apri il petto bene. Li stendi. Se sono scomoda in questa posizione posso farlo anche in piedi eh. Allora allora. Bene bene. Tira il petto bene avanti. Allunga il mento. Il collo. Libera le braccia. E spingi le morbide morbide verso l'alto. Allunga allunga. E poi aggancia con la mano destra e la mano sinistra. E tira giù. Scendi lentamente. Torno piano piano piano. Prendo. E tiro dall'altro lato. Vi ricordo sempre di condividere le nostre lezioni. Di riguardarvele. Se vi servono delle delucidazioni. Dei consigli. Mandateci messaggi. Ok? Noi siamo qui per voi. Quindi spingi bene in fuori col palmo della mano. Eccoci qua. Allunga bene in avanti. Giù il collo. Lascia appesa la testa giù. Allunga allunga allunga. Grazie a voi ragazzi di esserci sempre. Sempre sempre. Tirate un po' il quadricipile. L'abbiamo lavorato parecchio. E speriamo di rivederci presto. Mandate delle foto. Fatevi vedere. Che solo a noi ci dovete vedere con le ricrescite. Con le facce buffe. Fateci vedere pure le vostre. Eh? Tira l'altra gamba. Che non vale così, eh? Noi vi abbiamo portato nelle nostre case. Eh? Quindi fateci vedere pure voi. Solo Olga no, eh? Olga basta. Il tuo terrazzo basta. Mi fai rosicare e basta. Quindi non le metti le foto in costume sul terrazzo perché non le voglio vedere. Scherzo. Ti invito tantissimo. E torno. Ok ragazzi. Quindi sento i passetti di cani che forse arrivano. Emma, se no sei nascosta. Emma, va bene. Vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana con me. Domani seguite le lezioni. Ci sono tutto il giorno come al solito. E niente, vi ringrazio. Bacioni, buona serata, buona cena.